Non c'è pace per via Piacentino all'Arcella. Qualche anno fa, con la volontà da parte dell'amministrazione di limitare il traffico davanti all'omonimo parco, la via è stata resa a senso unico nella direttrice da via Aspetti a via Buonarroti. In quartiere però questo non piace a tutti, quindi il consiglio di quartiere avanza due proposte, cambiare il senso di marcia o ritornare al doppio senso. Secondo la consulta la cosa migliore è quella di ripristinare il doppio senso. Ecco noi abbiamo mandato la nostra opinione su in comune, poi il comune ha deciso di invertire il senso di marcia perché sono venuti qui i tecnici e hanno poi deliberato questa cosa. Vengono anche inviati dei tecnici comunali che stabiliscono che il senso unico va invertito. Questa decisione però sembra lettera morta. Oggi questa circolazione è l'unica strada penso in città che abbia per un pezzo un senso di marcia, mentre per la parte da via Buonarroti verso via Guido via Tiziano Aspetti ha un doppio senso di marcia e non si capisce come mai si sia creata questa situazione. Devo dire che è abbastanza imbarazzante, siamo di fronte a una sciocchezza amministrativa e quindi siccome le amministrazioni parlano per atti, invito la Giunta e il settore mobilità e lavori pubblici o a ritirare l'ordinanza di rifarne una completamente nuova oppure praticamente di applicarla. Per il consigliere ex capogruppo della lista Giordani e ora nel gruppo misto Luigi Tarzia sono molti punti critici della viabilità in quella zona della città a partire dal semaforo che porta verso il cavalcavia Borgomagno. Il 22 di aprile ho interrogato sul tema, sollecitato da molti residenti, l'assessore Ragone e ho chiesto anche di mettere mano non solo all'ordinanza e quindi di cambiare l'attuale senso di marcia, ma di sistemare anche la viabilità nei pressi del Borgomagno in via Totti, eliminando quel semaforo che non consente a tutti coloro che abitano nella zona ovest, diciamo così, bassa arcella ovest, quella verso via Nibela da Bassano, tanto per capirci, di facilitare la vita a coloro che devono entrare e uscire dalla città.